In questo momento stiamo verificando questo crometro digitale del Digital Boxing, quindi adesso alcune prove visive, fisiche, per capire se effettivamente tutto risponde. E nello stesso tempo si sta montando questa scheda di microfoni MT04N nella nuova fisarmonica del maestro Marco Lorusso. Questo sistema sarà applicato sulla mano destra del tracoro. In questa situazione invece si sta applicando due microfoni alla mano sinistra, un'altra opzione perché normalmente se ne applica uno. Dopo aver esaminato da cassa il legno, riproduce fedelmente tutte le caratteristiche dello strumento e il sistema è alimentato con una batteria a 9 volts. Quando il musicista tocca questa levetta e sostituisce la batteria. Questo si svolge nel laboratorio della Musitec di Castellicardo. Grazie Marco per aver dato questa opportunità di amplificare la tua fisarmonia che per noi è molto importante perché il musicista di fama internazionale fa benzo alla nostra vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!